Oggi, amici di Occhio TV, parleremo dei quattro problemi più comuni nel campo dell'elocazione del gas. Il consumo esagerato in bolletta, il contatore che non funziona, la classica bolletta pazza e se le fatture arrivano tutte insieme. Nel primo caso la lettura del contatore è fatta dal distributore e viene comunicata dal cliente nell'intervallo tra una rilevazione e l'altra. Per questo la bolletta può essere il frutto di calcoli fatti base ai consumi in tutto o in parte stimati, tenendo conto del gas consumato nei periodi precedenti. Per i nuovi contratti i consumi presunti si basano sulle dichiarazioni del cliente al momento della firma del contratto, quali il numero dei componenti, la qualità e il tipo di apparecchi usati. Per chiedere la rettifica della fattura mandate una raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore che vi deve rispondere entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta. Se vi risponde che non c'è alcun errore deve provarlo con i documenti. Se invece il fornitore riconosce l'errore, in caso di fattura già pagata deve riaccreditarvi i soldi entro 90 giorni dal ricevimento della rettifica. Se non rispetta tale termine avete diritto ad indennizzo che va da 20 a 60 euro. Nel secondo caso il contatore malfunzionante bisogna chiedere una verifica del funzionamento al venditore. Quest'ultimo dovrà incaricare il distributore di effettuarla. La verifica può essere fatta a casa del cliente o in laboratorio. In questo caso però vi verrà sostituito il contatore. Il distributore invierà l'esito al venditore entro 180 giorni per la verifica in casa e 240 per quella in laboratorio. Se il distributore non rispetta i tempi previsti per la verifica, il cliente avrà diritto a un indennizzo automatico di 30 euro. Successivamente, se si attesta che nel contatore ci sono errori superiori ai limiti consentiti, il distributore lo sostituirà senza costi e ricostruirà i consumi mal registrati. Questa operazione potrebbe non essere semplice e non essere d'accordo con la ricostruzione, ma affinché la controversia non si risolve la fornitura non potrà essere sospesa. Se però dalla verifica si evince che il contatore funziona bene, spetterà a voi pagare 40 euro. Se avete un contatore installato dopo il 1980 e 5 euro se installato prima del 1980. Il terzo caso riguarda l'arrivo di una bolletta pazza e purtroppo in questo caso è meglio pagare la bolletta anche se non la si ritiene giustificata e mandare una raccomandata per ribadire la contestazione. Infatti, pagandosi evitano alcuni fastidiosi inconvenienti, in quanto il fornitore non può considerarvi morosi e non vi può applicare gli interessi di mora e soprattutto non può sospendervi la fornitura di gas che avviene solo dopo preavviso scritto e vi informano dei costi di sospensione e di riattivazione. In ogni caso, se sospendono il servizio, potete riattivarlo inviando al venditore una richiesta specifica con la documentazione dell'avvenuto pagamento. Il distributore deve riattivarla entro due giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta del venditore e non dalla vostra. L'ultimo caso è quello dell'arrivo delle fatture, tutte insieme, è una delle situazioni con maggior frequenza, generici problemi tecnici e la motivazione data dai fornitori, problemi che possono durare molti mesi, il che significa un disagio notevole per chi si troverà a dover far fronte a una spesa elevata tutta in una volta. La cosa migliore è denunciare il disservizio con un reclamo scritto al fornitore e solitamente si anticipa mediante fax. Se la fattura è elevata, si può chiedere di suddividere l'importo in più rate. Purtroppo in questo caso bisogna pagare gli interessi al tasso ufficiale in vigore in quel momento. L'unica cosa che si può fare è chiedere l'indennizzo previsto per questi casi. Peccato che sia molto basso perché è appena di circa 20 euro. Considerato il disagio subito dal cliente per il ritardo di fatturazione, dovrebbe essere più alto. Grazie a tutti.